e ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi andiamo a vedere un kit fotovoltaico ragazzi piccolino piccolino però completo ragazzi è un kit fotovoltaico ok per impianto ad isola a cosa serve ragazzi è un kit che ti permetterà di trasformare la luce del sole in energia elettrica accumularla nella batteria in dotazione e in più puoi avere un gruppo inverter anche se piccolo però molto utile per esempio ragazzi chi va in montagna in un piccolo camper anche in auto vai a fare un viaggio vuoi un pannello vuoi una batteria vuoi accumulare energia per poterti ricaricare lo smartphone il computer o ancora farti luce perché ragazzi perché in dotazione ci sono anche due lampade led l'impianto ovviamente funziona a passa tensione un 12 volt 50 ampere ti danno tutta la cavetteria ti danno il pannellino ti danno il regolatore di carica ti danno l'inverter da 300 watt perciò puoi utilizzare cariche a 230 volt per ovviamente piccoli ovviamente e poi due lampadine qui le riportano con socket 230 volt però ancora più chiaramente delle fanno vedere qui sono lampade a bassa tensione 12 volt con modulo led smd interno appunto a bassa tensione ti danno le informazioni tecniche 50 watt per il pannello solare fotovoltaico una tensione massima di 17 volt una corrente di 2.89 ampere circuito aperto 21 volt corrente di corto circuito 3.17 ampere le dimensioni del pannello sono 63 per 54 per 18 mm può essere connessi in serie ovviamente massimo 1000 volt come sistema e allora sono 36 celle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 27 36 qui dovevano smettere al posto di batteri dovevano mettere celle ok 36 celle compone il pannello questo è il regolatore di carica ingresso uscita batteria uscita luci ok qui abbiamo anche due porti usb utili se vogliamo ricaricare i nostri dispositivi l'inverter eccolo qui questo è l'inverter 600 watt ragazzioni o uno simile ragazzi funziona 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 bene ovviamente sempre rispettando i massimali di potenza non possiamo andare a mettere per esempio un piano induzione un forno però carichi piccoli funzionano alla perfezione questa è la batteria che una piombo ti spiega come connetterli eccoli qua connettere il pannello connettere le batterie puoi andare a mettere qui la porto usb andare a mettere altri carichi in corrente continua eccoli qua guarda ti danno anche in dotazione il cavo se non sbaglio il cavo se nessun feedback ancora un prodotto nuovo il prezzo 156 euro e poi ti danno anche qui eccolo qui questo è il cavo di alimentazione per pannello che va poi a batteria regolatore di carica niente ragazzi questo è un bel prodottino un kit carino che trovate in rete con meno di 200 euro circa potrete anche andarlo a prendere vi ricordo il canale telegram delle offerte fox tech best shopping ve lo lascio sotto tutto in descrizione un saluto a tutti gli abbonati un saluto a tutti gli iscritti se ti vuoi iscrivere iscriviti seguimi ragazzi vi ricordo anche le offerte e le collaborazioni del canale youtube se sei in questo video è che perché sei interessato al fotovoltaico ti ricordo che il nostro sponsor principale il più grande uno dei più grandi produttori grossisti nel campo pannelli solari fotovoltaici riserva a tutti voi iscritti al canale e miei fans ottimi ragazzi sconti ciao ragazzi e al prossimo video